Un nuovo servizio di certificazione dei tamponi anche in lingua inglese. Questa la possibilità che è stata attivata dalla farmacia comunale numero 1, quella di Campodimarte, che in attuazione di quanto indicato dall'articolo 9 del decreto legge 52 2021 ha previsto la consegna di un modulo attestante la negatività al tampone antigenico rapido che può essere richiesto per spostamenti al di fuori del territorio italiano. La tradizionale certificazione rilasciata dalla regione toscana potrà dunque essere integrata da un parallelo documento in inglese che, stilato direttamente dal farmacista, riporta la data, l'ora, le caratteristiche e il codice identificativo del test eseguito. In vista di un viaggio all'estero i cittadini dovranno prima informarsi sulla tipologia di tampone richiesto dal paese di destinazione, molecolare o d'antigenico. Se il tampone necessario sarà quest'ultimo, il test eseguito per via nasale sarà prenotabile direttamente alla Campo di Marte, dove in pochi minuti e con risultati attendibili verrà rilevata la positività o negatività al covid-19. In caso di assenza di contagio senza costi aggiuntivi potrà essere richiesta la specifica certificazione in inglese, valida anche per l'espatrio. Per garantire questo ulteriore servizio, lo sportello tamponi resterà attivo anche nel corso dell'estate da lunedì al sabato con orario 9.13.15.19 con appuntamenti che possono essere fissati contattando direttamente la farmacia Campo di Marte o una delle altre sette comunali in città e frazioni.